Ciao a tutte ragazze e bentornate sul mio canale. Oggi un nuovissimo video spacchettamento Yves Rocher. Questo sarà il secondo ordine che ho effettuato con l'album 1 e quindi cominciamo subito e vi faccio vedere. Quindi ho fatto il primo ordine con la rapidità e il secondo ordine a chiusura dell'album. Allora comincio subito dalla busta di una cliente che è questa, che ho già pronta e già preparato perché dovrebbe passare a ritirarla e quindi ve la voglio fare vedere intanto. Allora, vabbè, questa appunto è la sua bustina e lei mi ha ordinato uno shampoo di questi anti-caduta. Questa è la prima volta che lo prende. È uno shampoo stimolante con lupino bianco e i fruttani d'agave che hanno tutti gli shampoo di brochet. Poi mi ha ordinato un fluido liscente per i capelli. Questo vedo recensioni super super positive da tutte. Io purtroppo non ho i capelli lisci, quindi lo potrei utilizzare se capita. Non ce l'ho pure abbastanza bruttini stavolta, questa schiuma non mi sta piacendo per niente. Comunque io potrei provare ad utilizzarlo prima di fare magari una piega liscia e quindi vi farò sapere. Comunque siccome lei li vuole crescere, cioè crescere nel senso ce li allunghi, però ce li ha un po' rovinati dal phon, dalla piastra e quindi le ho consigliato questo, di applicare questo sulle lunghezze e nell'asciugatura lei non avrà bisogno di phon e piastra, a meno che naturalmente non ha un'occasione, non ha qualcosa di specifico che magari serve una sistemata maggiore. Poi mi ha ordinato una crema per il viso, le avevo dato un campioncino di questa Elixir Genesse e le è piaciuta tanto. Questa è quella di riparazione, antinquinamento e trattamento ristrutturante, ha il super concentrato di Afloia ed è un'antirughe da giorno. Quindi appunto mi ha ordinato questa. Io visto che ha ordinato la crema da giorno ho voluto omaggiarle della stessa linea l'acqua micellare, che è questa, è l'acqua micellare detergente sempre appunto della linea Elixir Genesse. Questo è una sorta di campioncino, cioè una sorta, è una mini taglia in sé per sé, però io per spiegare bene qual è il prodotto, quello che faccio ecco sempre è ritagliare parti di cataloghi precedenti in modo tale che c'è il prodotto in full size, poi come sarà, la spiegazione del prodotto, vabbè qui ho lasciato anche il prezzo ma in genere lo tolgo perché magari l'offerta varia da album a album. E poi le ho chiesto, ecco, per saperne di più naturalmente di chiedermi e quindi poi ci sentiremo con gli audio e le spiegherò meglio il tutto. E poi le ho voluto mettere anche un campioncino di questo, che è il siero della stessa linea, che appunto qui c'è spiegato che è un siero a doppia azione, come sappiamo tutti i sieri vanno utilizzati sotto la crema viso abituale e raddoppiano l'efficacia della crema stessa, quindi anche qui gliel'ho scritto, appunto non ho messo di provarlo, comunque sono due mini size, due campioni carini che secondo me fanno sempre piacere, sono graditi. E poi appunto portano alla vendita successiva, come quella volta io le ho dato il campioncino di crema e a lei è piaciuto e adesso si è comprata la crema, se non è l'ordine subito dopo, non è l'altro, ma state tranquille che tutto torna. E poi le ho messo due campioncini di profumo, questi sono appunto due profumi e poi adesso quando poi la porto di là andrò a vaporizzare gli album, la fatturina, ecco tutto, e quando poi porterò di là la busta andrò a vaporizzare un profumo e per ora andrò a vaporizzare sicuramente il lui al amor, perché io sono a periodi e per ora è il periodo del lui al amor, aspettate che la riprendo, ok, così questa è la sua busta, è pronta, appena le viene, sprossatina e via. Poi cos'altro mi è stato ordinato? Allora mi è stata ordinata due, altre due acque profumate alla vaniglia, che sono queste qui, corpo e capelli, l'avete visto appunto anche nel video precedente, queste sono a 9,90 ed erano a 5,95, quindi al 40% di sconto proprio sono andate via velocemente. Poi mi sono stati ordinati, scusate io sto facendo un rumore casino che appoggio tutto, mi sono stati ordinati due shampoo delicatezza, questi sono quelli di crema lavante, cioè quelli che non fanno schiuma e sono con biancospino che è un protettore della cute, sono senza solfati. Questa è la stessa signora che me li ordina e li utilizza, è una nonna e li lascia in casa per i suoi nipoti, li utilizza per i suoi nipoti, perché quando vanno lì sono innamorati, infatti le prende tutta la linea mamelis, prende il bagno schiuma, prende gli shampoo, prende anche l'altro shampoo appreso, quello lì che fa schiuma, però dice che questo lo preferiscono e quindi appunto è una nonna e li ordina per i suoi nipotini. Poi mi è stato ordinato questo, che è un latte rassodante idratante con centella asiatica per tutti i tipi di pelle e questo è riducente, diciamo che aiuta l'elasticità della pelle appunto in quanto rassoda. Qui c'è scritto che l'efficacia è provata fin dalla prima applicazione, quindi è questo qui. Volevo alla centella asiatica, ve l'ho detto? Sì? Che è due in uno? L'idratante rassodante ve l'ho detto? Sì? Ok, benissimo. Quindi questo è l'altro. Poi mi è stato ordinato un altro, ma ne ho anche nell'ordine che ho fatto ieri, cioè una varanga, di questi bagno schiuma i grani di caffè. Fatemelo annusare di nuovo. Che buono, che buono! Questo è annusato, venduto. Hanno usato, venduto. Certo, ho beccato anche la cliente a cui non piace il caffè, che non prende il caffè, l'ho beccata. Però la cliente che prende il caffè l'hanno usato e l'ha preso, venduto. Assolutissimamente bellissimi. Poi, vediamo cos'altro. Ah, mi è stata ordinata una crema da notte della linea Lifting Vegetal. Questa è con collagene vegetale, appunto è un trattamento fortificante da notte. Poi mi è stata ordinata una crema invece della linea Sebo Vegetal, questa è ideale per pelli grasse. E poi vado al make up a tutte le cosine più piccole. Non voglio fare troppo rumore. Allora, mi sono stata ordinata, intanto, facciamo così. Appoggio promo, una bellissima combo di stilo sopracciglia e mascara per sopracciglia. Io vi lascio il link dell'album perché assolutamente lo dovete vedere. E eventualmente, appunto, se volete saperne di più, scrivetemi che vi mando tutti i codici. Cioè, io finora sono stata lì così, tipo con gli occhi tagliati, perché sono più vicino al pacco. Vabbè, scusate, comunque questa stilo è della Ultra Blun. Non vedete niente, comunque quella lì più scura. Non dico nera, però marrone molto scuro. Poi me ne sono state ordinate invece due di quelle lì temperabili. E sono la Ultra Brun e la Brun. Brun e Ultra Brun, quindi tutte e due scure. Vado a random, ragazze, nel sacchetto. Mi è stato ordinato un temperino. Questi sono fantastici, che hanno il buchetto sia stretto che largo, quindi sia per i matitoni che per le matite, appunto. Poi mi sono state ordinate, che erano in promozione, due creme per il viso, che sono queste qui, scusate, sono due maschere. Questo è il gommage, quello lì che avete visto anche nelle mie storie di Instagram. È un gommage granita, luminosità, con Antemis Bio, quindi è uno scrub per il viso. E questa invece è la maschera, quella lì, in gel purificante, quindi per chi ha la pelle grassa. Queste maschere si chiamano maschere trasversali, perché si possono mettere tutte insieme, cioè voglio scrabbare il naso, voglio purificare solo la fronte e il mento, cioè io me le posso andare a mettere tutte insieme. E quindi è una meraviglia. Io adesso, il mio prossimo obiettivo è prendere quella alla calendula, che mi sono dimenticata di inserire nell'ordine. Poi mi è stato ordinato questo, questo è il solito fondotinta, è la solita cliente, me lo prende sempre, è il Zero Difetti Matte, il Beige 200. Poi un mascara, quello lì nuovo, il Metamorphose Intense. Di questo vi ho fatto il video, vi ho fatto le storie di Instagram, cioè ve ne ho parlato tantissimo e benissimo, perché io proprio lo amo. Infatti lei ha visto le mie storie e mi ha detto ok, prendimelo, lo devi prendere per forza. Poi una stilo occhi, di queste qui, anche questa è nuova, nuova versione, hanno tutto il fior d'aliso bio dentro e questa è la colorazione 04, turchese. E poi una, sicuramente, infatti una nera, di quelle lì di legno temperabili, anche questa nuova versione, matita col. Poi mi è stato ordinato uno smalto, questo è il Cerise Noir, che è bellissimo, io l'ho trovato nel calendario dell'avvento make-up, no, forse in quello normale pure. E poi mi sono stati ordinati quattro balsamo labbra e sono uno al lampone, uno alla vaniglia, uno al cocco e uno al karité, quindi questi quattro. Poi, questo va bene all'ordine appunto da 180 euro, poi io ho aggiunto le mini taglie appunto di acqua micellare da omaggiare alle mie clienti, perché io ricordo che comunque sia i brochette regala prodotti in full size e questi comunque sono da acquistare, ecco. Però io lo trovo un investimento, a parte che il prezzo è veramente irrisorio e bassissimo, lo trovo veramente un ottimo, ottimo investimento, perché appunto io così ho la possibilità di far provare l'acqua micellare della stessa linea della crema della mia cliente, quindi per me è ottima. Cosa bellissima, bellissimissima, un regalino per me, che è questo, per aver fatto entrare una persona nel mese di novembre, quindi una persona a lavorare con me o anche ad attivare il codice sconto, quindi se anche tu vuoi attivare il tuo codice sconto, lo sai, ormai lo sai, lo scriverò qui dove c'è la porta, qui scriverò eventualmente di contattarmi che io ti indico tutto appunto, sia come attivare il codice sconto, che come lavorare, se vuoi lavorare con me, ti indicherò le due strade e niente, quindi se vuoi avere anche tu i tuoi omaggini. E allora, il regalo cosa comprende? Io al solito faccio un sacco di casino, non mi preparo mai niente prima. Strappa tutto, ok. Allora, il regalo cosa comprende? Oh, ce l'ho stata schiacciata. Comunque, il regalo comprende una crema dal giorno anti-età, sublimante, la linea anti-age global. Bellissima, vabbè, di questa ve ne ho parlato, sempre nelle storie di Instagram, quindi se non mi seguite, seguitemi su Instagram. Poi, della stessa linea, il siero, che è il Supra Essence, e questo sono veramente super curiosa di provarlo, perché già la crema è ottima. Ve l'ho detto tante volte, è tipo in mousse, è proprio bella bella. Poi, il trattamento illuminante, il contorno occhi, quindi io poi questa linea penso la comincerò tutta insieme, perché per ora sto usando invece la lifting vegetal, quindi quella di verde acqua, e novità delle novità che trovate sulla copertina dell'album in vigore adesso, è questo siero della anti-age global. Questo lo apro perché stasera non vedo l'ora di arrivare a casa e di utilizzarlo. Cioè, non vedo l'ora di arrivare a casa per diversi motivi, però poi non vedo l'ora di utilizzare questo. Allora, la scopola purtroppo è un po' schiacciata. Allora, questo è un siero concentrato bifasico. Cioè, guardate che meraviglia. Allora, questo è appunto un siero bifasico ed è un concentrato da notte. Allora, intanto ha il nettare vegetale di Gemma, questo forse non l'avevo detto, che c'è in tutte le nostre creme di questa linea, però qui è doppio. Quindi, allora, come sappiamo, adesso faccio un momentino di... un momento formazione. Allora, come sappiamo, la nostra pelle di giorno ha bisogno di un certo tipo di trattamento perché deve essere protetta dagli agenti atmosferici, quindi dal sole, vento, comunque tutto, dall'inquinamento soprattutto. E anche uno dice, ok, io sto in casa, ok, ma sta in casa, fai le pulizie, quindi c'è la polvere, comunque lo sporco. Quando tu ti vai a struccare, anche se tu sei stata in casa, anche se tu non ti sei struccata, passando il dischetto di acqua micellare, quello va a togliere tutte le tostine, tutte le sporcizie che comunque si sono depositate di giorno sul tuo viso. La notte, invece, le creme hanno bisogno di un altro tipo di trattamento perché la notte la pelle si rigenera e quindi, come dice la nostra direttrice, lavora, lavora, lavora e quindi hanno bisogno di un diverso tipo di trattamento e questo appunto va a rigenerare la pelle. Le mie colleghe che l'hanno provato sono entusiaste, anche colleghi, perché ho anche qualche collega maschio che l'ha provato ed è veramente entusiasta, dice che è bellissimo e che proprio sente già la differenza solo con poche applicazioni. Quindi non vedo l'ora di provarlo e niente, non vedo l'ora di provarlo, per ora è in super offerta abbinato alla crema per il viso, quindi presi da soli, ecco, hanno un prezzo, presi insieme hanno un altro prezzo e ve lo faccio vedere perché tanto voi, no l'album di là, stavo dicendo, quando vedete questo video già l'album è attivo, ma comunque va bene. O vi faccio scorrere qualche immagine o, non lo so, seguitemi sui social che io li pubblico sempre, quindi seguitemi sui social e basta ragazze, questo appunto è stato tutto il mio ordine con annessi omaggi e naturalmente dentro c'erano anche dei campioncini di questo olio bifatico che io metterò nei pacchettini e omaggerò alle clienti. E niente ragazze, sicuramente ho dimenticato di dirvi qualcosa perché ho la testa un po' confusa, però adesso vado a sistemare gli altri pacchi così le clienti vengono a ritirare tutto e niente, io vi mando un bacio grande e noi come sempre se vi faccio, ci vediamo al prossimo video. Ciao!